Berlusconi, gira, gira, non sa che fare, non sa chi lasciare poi, non sa, non trova uno, domani deve vedere Beltroni, Beltroni stai attento perché lui per la legge elettorale, no? Valtteri stai attento perché io so già cosa ti proporrà Berlusconi, perché non è che gli piace alla tedesca, con la spalmata alla francese, alla spagnola, con lo sbarramento alla Jugoslava, con il 4% l'unominale maggiorità, lui ti proporrà alla Vaticana, io lo so già, c'è un'unica nazione nel mondo che regge da 2000 anni senza crisi di governo e quella gli piace a Berlusconi, ti proporrà alla Vaticana, si elegge uno e finché campa, campa, ci sta lui senza crisi. Beltroni, attento quando ti dirà, qui a Roma c'è uno staterello che va molto bene politicamente, attenzione a queste parole, poi è proprio di aver fatto organizzare questo incontro tra Berlusconi e Beltroni, proprio domani, che c'è lo sciopero, hanno organizzato Prodi, devono andare a piedi, non si possono, c'è uno sciopero generale, aerei, treni, autobus, tutto, non c'è verso di fermo.